Andrea Rossi presenta ufficialmente a Zurigo la tecnologia ECAT. Articolo di Luciano Saporito Nexus Edition IT. Tratto da stampa libera. Conferme ufficiali vengono dal recente congresso internazionale sulla e-categoria tecnologi da parte dello stesso dottor Andrea Rossi, inventore di questa nuova e stupefacente tecnologia, basata sulle reazioni nucleari a bassa energia LNR Michel barra idrogeno. Il congresso Energica Ange, WIT e categoria Technologi è stato organizzato dai licenzetari e categoria Germania e categoria Switzerland. Era presente anche Aldo Proia della Prometheon, società licenzetaria delle ECAT per l'Italia. Dopo il clamore provocato inizialmente, e già nel lontano 1989, dagli esperimenti pionieristici sulla fusione fredda, resi pubblici da Martin Fleiskman e Stan Leppons ricerche purtroppo tristemente insabbiate poi per oltre venti anni, negli ambienti scientifici aperti e innovativi, e spesso non accademici, non si è fatto comunque altro che parlare di questa possibilità e di nuova fonte di energia pulita, economica e pressoché inesauribile. Energia da fusione fredda, ovvero ottenuta da fusioni nucleari a bassa energia. Questa nuova fonte di energia, economica, praticamente inesauribile e pulita, ovvero priva di radiazioni nucleari nocive e di scorie radioattive come invece avviene attualmente nella fusione nucleare calda, determinerebbe oggettivamente le condizioni per una rivoluzione energetica planetaria e per il benessere di tutti i popoli della Terra, e potrebbe salvare anche lo stesso pianeta Terra dagli effetti disastrosi. Già in atto, dovuti al riscaldamento globale determinato dall'uso dei combustibili fossili e dalla conseguente emissione di CO2 nell'atmosfera l'Italia, in questo settore quello della fusione fredda, è sempre stata all'avanguardia, a partire dagli studi teorici del professor Giuliano Preparate e poi dalle ricerche effettuate dall'Enea Rapporto 41, già nel 2002. Da parte di Emilio del Giudice, Antonella De Nino, Antonio Frattolillo e Antonietta Rizzo. Ricerche note e apprezzate anche dal Nobel Carlo Rubbia, allora direttore dello stesso ente di ricerca italiano, Enea, ma purtroppo poi cadute, di fatto, nel vuoto poiché non rifinanziate in Italia operano tuttora alcuni tra i maggiori scienziati nel campo delle LENR Andrea Rossi, Sergio Focardi, Francesco Piantelli, Francesco Celani, Iorio, Cirillo, Uga Bundo solo per citare i più noti. In particolare il dottor Andrea Rossi, che per portare avanti il proprio lavoro si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha fondato la Leonardo Corporation, ha già annunciato la commercializzazione anche in Italia, nei prossimi mesi, delle prime centrali ECAT da un megawatt termici inizialmente, quindi, per la sola produzione di calore. In un secondo momento, ma molto presto, come lo stesso inventore Andrea Rossi ha dichiarato di fronte ad una platea internazionale nel convegno di Zurigo appena svoltosi, il 9 e 10 settembre 2012, questi apparati basati su tecnologia ECAT saranno anche in grado di produrre direttamente energia elettrica dal calore, sempre a partire da sistemi basati su nichel-idrogeno. Punto. Si tratta di una scoperta scientifica degna sicuramente di un premio Nobel per la fisica. Se sorrose fioriranno una scoperta, che avrà di certo ripercussioni enormi e positive sullo sviluppo energetico ed economico di tutto il pianeta, e anche della civiltà umana nel suo complesso allo stato dei fatti, la cosa, che lascia senza parole è che nel nostro Paese, il nostro Governo non si sia ancora interessato, come ci si aspetterebbe, a questo argomento, a questa meravigliosa invenzione, che è l'ECAT. Vi risulta che siano stati fatti significativi investimenti per il sostegno di queste promettenti e attuali ricerche e tecnologie? In particolare ovviamente mi riferisco alla tecnologia ECAT del dottor Andrea Rossi, che è ormai matura, testata, e in corso di certificazione ufficiale da parte degli enti internazionali preposti non crede il nostro Governo, che questa nuova tecnologia, tutta italiana, potrebbe dare un impulso clamoroso e impositivo alla stanca economia del nostro affaticato Paese? E anche al benessere e alla qualità della vita del nostro popolo? Mi domando ancora, per concludere, se i nostri governanti abbiano veramente a cuore le sorti tecnologiche, energetiche, e lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese? O ancora una volta, invece, pensano solo a finanziare industrie obsolete e tecnologie ampiamente anti-economiche, quando non addirittura dannose per l'ambiente e per l'essere umano? A voi la risposta.